Non si placa la bufera attorno a Sei Toscana, la società di gestione del servizio dei rifiuti nella Toscana del Sud, al centro dell'inchiesta della Procura di Firenze, assieme a Siena Ambiente che ha portato agli arresti domiciliari e alle dimissioni del direttore del lato rifiuti Toscana Sud Andrea Corti e alle interdizioni con conseguenti dimissioni di Eros Organi, amministratore delegato di Sei Toscana e Marco Buzzichelli, amministratore delegato di Siena Ambiente L'autorità nazionale anticorruzione ha infatti comunicato a Sei Toscana e a Siena Ambiente di aver avviato le procedure di proposta delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio Quello che ci domandiamo è se il livello gestionale di Sei Toscana sia indenne da critiche e per questo ANAC ha giustamente applicato l'articolo 32 del decreto legge 90 del 2014 che prevede tutta una procedura in casi come questo e che consente al presidente di ANAC che lo ha fatto di rendere edotti i soggetti che parte questa procedura che metterà il prefetto competente per territorio di agire secondo due diverse direzioni alternative La prima più semplice è quella di chiedere e ottenere dal soggetto che ha tra gli amministratori qualcuno che è indagato per certi tipi di reato la loro rimozione La seconda alternativa a questa è provvedere direttamente alla gestione e mantenimento del servizio cioè un commissariamento di fatto Io convocherò a brevissimo un'assemblea di Ato perché voglio proporre ai sindaci di sottoscrivere, approvare un documento con il quale si chiede espressamente al prefetto di seguire la seconda strada, cioè quella del commissariamento perché io, e questo è il contenuto politico del mio intervento vorrei che fosse data una linea di discontinuità rispetto al passato Siamo arrivati in un punto in cui Ato non ha più un direttore generale se ne deve dotare di uno nuovo e lo ha sostituito temporaneamente con un dipendente Il gestore ha un consiglio di amministrazione di 9 soggetti due dei quali al vertice sono stati costretti a dimettersi Beh, io credo che sia il momento di rinnovare completamente il parco buoi cioè mettiamoci soggetti che sono fuori da un passato quantomeno da definire Siccome non c'è tempo per farlo, secondo me l'ha stata migliore andare verso il commissariamento Grazie